Gentili telespettatori, buona giornata. Quali sono le auto più vendute negli ultimi 30 giorni? Vediamo la classifica di questo mese, di aprile 2023. Al decimo posto si piazza la Ford Puma con 2.552 vetture vendute. Al nono posto troviamo la Renault Captur con 2.652 in metricolazioni. All'ottavo posto troviamo la Dacia Duster, 2.813 vetture vendute. Al settimo posto la Citroen C3, 3.108 in metricolazioni. Mentre al sesto posto la Toyota Yaris Cross, 3.469 vetture. In quinta piazza si trova invece la Volkswagen T-Roc con 3.652 unità. Mentre la Jeep Renegade ha il quarto posto con 3.953, quella che si chiama la medaglia di legno. Poi sul gradino più basso si trova la Fiat 500 con 4.200 vetture. Medaglia d'argento per la Dacia Sandero con 4.573 macchine vendute. Mentre resta stabile in vetta ancora una volta la Fiat Panda con 7.985 immatricolazioni. Comunque la Fiat Panda domina incontrastata il mercato delle auto anche nell'analisi dei numeri relativi al primo bimestre del 2023 con ben 18.670 unità vendute. Seguita a grande distanza dalla Dacia Sandero, 8.671 e dalla Jeep Renegade con 8.347 nuove auto, non autobus ma auto. Si vede che questa Jeep Renegade ha delle forti agevolazioni. Andiamo a vedere cosa costa la Jeep Renegade. Vediamo un po', parte da 26.300, la 1000 T3 Longitude, poi arriva alla 1600 29.800, comunque è simpatica. simpatica e probabilmente 5 posti, diciamo che probabilmente per quel prezzo non c'è molta concorrenza perché è venduta. Va bene, abbiamo scoperto anche che la terza auto più venduta costa all'incirca 26.000 euro, che non è poco. E poi vediamo che per quanto concerne i motori a combustibile, le auto a benzina restano le predilette dagli italiani, 26,1% del totale, mentre le diesel sono più indietro, 19,2%. Una volta negli anni 2000 si vendevano solo macchine diesel, vi ricordate? Oggi, quando ormai il diesel costa come la benzina, se non di più, oggi la gente compra la benzina, la macchina che va a benzina. Le vetture alimentate a GPL raggiungono il 10,1% del totale vendute nell'ultimo mese. Quelle a metano, che non so più se ti dà una mano, crollano allo 0,2%, ovviamente dato il costo del rifornimento che non è più fattibile. Complessivamente le ibride raggiungono quota 36,5% con le full ibride, cioè solo elettriche, sono il 9,8% delle vendite. Quelle col motore combinato, termico ed elettrico, sono il 36,5%. Le mild ibride, che non so cosa sia la mild ibride, 27,7%, molto indietro le plug-in. Eh, perché nel nostro caspita di paese, se non parli con termini stranieri, che vergogna, che vergogna. E io vi sto riportando un articolo che parla delle plug-in. Ma che cacchio è la plug-in? Vabbè, 4,2%. E poi c'è la full electric, 3,7%. Vabbè, che vi devo dire? Se non parli in inglese non sei nessuno nel 2023, giusto? No? Non sei nessuno se non mi parli in inglese. Se in una frase non ci metti una parola in inglese... Ecco. Quindi questi sono gli ultimi dati. 130.365 in matricolazioni. Si registra un più 17,5% rispetto allo stesso mese del 2022. Complessivamente il primo bimestre del 2023 si chiude quindi con la vendita di 258.689 nuove auto con un incremento del 18,2% rispetto alle 218.768 registrate tra gennaio e febbraio dello scorso anno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Poi questi video sono dopo qualche ora condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Poi lì, se volete, potete condividere i video, non c'è nessun problema. Vi ricordo che ci sono anche altri due canali che sono di mia moglie, sono piccolini, voi siete in tanti, capisce a me. Uno si chiama In Cucina con Carla, Carla con la K, e l'altro si chiama Tutorial Uncinetto con Carla, Carla sempre con la K. Anche questi video poi sono condivisi dopo qualche ora nella pagina di Facebook che vi dicevo prima che si chiama Teleitalia. Bene, grazie a tutti. Ci vediamo tra poco per un altro video. e pertanto buon proseguimento di giornata e ci vediamo presto. Quindi date un'occhiata a questi altri tre canali, Teleitalia Seconda Rete, sempre col televisorino, In Cucina con Carla, Carla con la K, Tutorial Uncinetto con Carla, Carla con la K. Grazie a tutti e arrivederci a presto.